Signor Quinn, per favore, è una dichiarazione! Come mai è stato arrestato? Signor Quinn, come mai è di nuovo in arresto? Mi sono volontariamente messo a disposizione dell'FBI. Lascia una dichiarazione? Sì, certo. Sono io, Green Arrow. Ho negato questa verità con la stessa fermezza con la quale sto parlando. Brave persone sono state accusate di azioni commesse da me. Roy Harper non è Green Arrow. Tommy Merlin non è sicuramente Green Arrow. Sono due nomi di una lunga lista di persone che hanno dato così tanto e sacrificato ogni cosa in nome della mia crociata. Alcuni hanno sacrificato la vita. per raggiungere un semplice obiettivo. Salvare la città. Star City deve essere salvata. Ieri abbiamo sferrato un colpo decisivo al nemico, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Quindi mi rivolgo alla gente di questa città. mi rivolgo ai miei alleati, ai miei amici, ai miei compagni. E chiedo loro di continuare. Continuare a lottare. Chiedo loro di completare la missione. di salvare la nostra città. Sì, ma dobbiamo capire in che modo ci siamo costi. Sì, ma dobbiamo capire in che modo ci siamo costi. Sì, ma dobbiamo capire in che modo ci siamo costi. Benvenuto all'inferno, bastardo. E strapperò le budella con le mie mani. Sì, sito! Ehi, lascia qui. Vedrai che ci vedrai. Infatti viaggerà, vedrai. Guardalo. Ehi, è un posto che non mi fa. Vado a divertire, eh? Non uscirai viva qui, qui. Vado a divertire, 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 vado a divertire. Vado a divertire, 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 vado a divertire